Mi chiamo Maurizia, vengo da Roma e faccio parte dell'associazione Nuovi Orizzonti. È una realtà che si occupa prevalentemente del disagio giovanile, nata negli anni 90 da una ragazza di nome Chiara Mirante che ha iniziato ad andare alla stazione Termini di Roma ad incontrare i ragazzi che erano buttati per terra vittime della droga, della violenza e della prostituzione. Ecco, lei ha sentito questo grido di tutti questi fratelli che avevano bisogno, avevano bisogno di una casa, di una famiglia e di tanto amore. Così sentendo proprio nel cuore questa chiamata forte di portare l'amore a questi fratelli bisognosi, ecco che è nata questa avventura di Nuovi Orizzonti. Oggi abbiamo tantissimi centri di accoglienza in Italia, in Brasile, in Bosnia e non solo ci preoccupiamo di accogliere ragazzi che vivono nella strada o vivono dei disagi, ma soprattutto un inferno dell'anima. Ma abbiamo anche un settore artistico dove cerchiamo attraverso gli spettacoli di fare prevenzione e sensibilizzazione soprattutto ai giovanissimi, ai ragazzi che possono incontrare nel loro percorso di crescita delle situazioni di disagio, di difficoltà. Sono da diversi anni che nella scuola secondaria di Ponte Nosso e Gorno affrontiamo con i ragazzi il tema delle dipendenze e quindi come ogni anno quest'anno abbiamo fatto già degli interventi nelle classi terze con l'aiuto dello psicologo Gian Battista Marchesi che ha affrontato con loro temi legati sia all'abuso di alcol, di droga, ma anche legato alle nuove dipendenze quali dipendenza da internet, dipendenza da videogiochi. Abbiamo inoltre tenuto un incontro con i genitori perché anche loro fossero messi al corrente delle problematiche che vivono oggi i nostri ragazzi e quali sono i segnali di disagio, i segnali che possono far pensare a una possibile dipendenza. E quindi quando abbiamo saputo che a Parre arrivavano i ragazzi di questa comunità di Novi Orizzonti in accordo con Don Armando abbiamo pensato ben volentieri di portare anche una testimonianza diretta ai nostri ragazzi di esperienze vissute concretamente da ragazzi e da giovani. Per cui questa mattina i ragazzi di terza media incontrano Maurizio e Maurizia della comunità Novi Orizzonti e parteciperanno questa sera al concerto a Parre, sempre organizzato sia dalla parrocchia che dal comune di Parre.